Lo Juventus Center, il campo Ale e Ricchi, palcoscenico della sfida tra Juventus e Udinese. Un incrocio tutto bianco-nero nella prima giornata di ritorno all'andata, all'esordio. 1-0-0 a Codroipo con un 4-3-3, con Borsellini in porta, Pieve, Serafin, Parpinelle e Ermacora in difesa. Alilovic, Bovolon e Variola a centrocampo. Joulou affiancato da Armenakas e Garmendia. Ha diversi giocatori interessanti nel tridente offensivo dell'Udinese, soprattutto questo Armenakas, di cui si dice veramente un gran bene. Assolutamente, hai ragione Gabriele. È un giocatore dalle indubbie qualità, è un mancino puro che gioca prevalentemente a destra per poter rientrare e sfruttare il suo ottimo tiro. La difesa bianco-nero in qualche modo, poi Variola prova a liberare il destro Variola, aspetta dei rinforzi. L'apertura è a beneficio di Armenakas, punta l'avversario Armenakas, si accentra dentro ancora per Variola. Ah, e l'intervento decisivo da parte di Emil Audero che evita il pareggio dell'Udinese. Grande chance per l'Udinese, la chance più importante del match con Variola che si dispera, ma grande intervento di Emil Audero. Molto reattivo, rivediamo, ha fatto tutto bene Armenakas con il pallone in mezzo di prima intenzione Variola. E qui è stato un grandissimo intervento reattivo di Audero a dire di non per Ermacora. Può andare al traversone, lo effettua sul secondo pallo, c'era in zona anche Melissano. Poi arriva Armenakas con il destro Melissano in due tempi, ancora Melissano. E poi si divora il gol dell'Udinese con il pallone che termina direttamente sul fondo. Ma ancora Emil Audero protagonista e ancora Armenakas che in questo momento è il giocatore più pericoloso dell'Udinese. Rivediamo il sinistro di Armenakas, Audero ci mette la pezza in due tempi e poi Melissano che...